amici amici grande notizia domenica 9 dicembre 2018 da piazza affari parlo piano ci sarà una grande presentazione in esclusiva nazionale della nuova bevanda energetica italian bulldog solo qua da piazza affari ma come sarà questa bevanda chi l'avrà prodotta cosa ci sarà dentro sarà buona non sarà buona non lo so chiediamo al nostro esperto il dottor pisserè a te la linea si buongiorno salve sono il dottor pisserè vi presento sono l'inventore il produttore il testimonian il manager di questa nuova bevanda energetica made in italy appunto la italiana bulldog creata appositamente da me che potrete trovare in esclusiva domenica 9 dicembre da piazza affari magari se ce la faccio vengo anch'io che buona questa bevanda mamma mia che buona ragazzi venite a provarla dai fate come me un saluto dal dottor pisserè riprendiamo la linea dallo studio grazie dottor pisserè ed eccola qua ed eccola qua la tua bevanda energetica la bevanda energetica italian bulldog ragazzi cioè vi aspettiamo ad assaggiarla domenica 9 dicembre 2018 qui da piazza affari a bughera in via cavo 69 al pomeriggio noi apriamo le tre e mezza e sarà a disposizione un assaggio per tutti di questa super gustosa bevanda energetica consigliata dal dottor pisserè quindi vi aspettiamo attenzione c'è un'altra cosa che vi devo dire sempre domenica 9 dicembre mentre facciamo questa presentazione questa degustazione della bevanda italiana bulldog ci sarà una raccolta fondi a favore di cuore clown un'associazione onlus di clown di corsia qui dalla zona questi ragazzi che sono tutti volontari e vanno nei reparti di pediatria degli ospedali a portare un po di allegria un po della loro arte a far divertire i bambini e cosa hanno pensato di fare questi ragazzi a gennaio il 17 porteranno in ucraina dalle parti di cernobil un grande spettacolo e anche una donazione economica quindi noi daremo il nostro contributo e voi se volete darete il vostro contributo qui da piazza affari sempre il 9 dicembre venite assaggiate la bevanda se volete approfondite il discorso di questa associazione cuore clown onlus andate a cercare c'è anche la pagina facebook e potrete anche dare un piccolo grande contributo economico dai ragazzi è una bella cosa vi aspetto mi raccomando forse ci sarà anche il dottor pissarè non lo so dipende sai tanti impegni internazionali vediamo 9 dicembre 2018 segnatela in rosso come la mia felpa della patagonia